Il martinismo e l'ordine martinista di Francesco Brunelli Chi fu realmente il fondatore del martinismo? Gli autentici ispiratori del martinismo moderno e contemporaneo devono essere ricercati nel martinismo antico e primitivo, in paesi lontani e tra questi coloro che emergono maggiormente sono, ed è chiaro, Martinez de Pasqually e i suoi allievi diretti, Jean-Baptiste Vigermont e Louis-Claude Saint-Martin. Ed è bene precisare ancora che se Papius e Chambousseau erano in possesso di qualche cosa, diciamo pure di una iniziazione dalla quale partirono per fondare un ordine iniziatico chiamato martinista, questo qualche cosa veniva da Louis-Claude Saint-Martin attraverso l'ormai nota catena. Tuttavia Saint-Martin era il discepolo di Martinez e se Saint-Martin si allontana dalle pratiche teurgiche per seguire la sua via, la sua tecnica, Mai rinnegò gli insegnamenti ricevuti e a più riprese confermò la sua fedeltà alla dottrina originaria. E' evidente che con il trascorrere degli anni il martinismo abbia subito apporti differenti, ma tutti legati alle correnti che generano la dottrina di Martinez, con la transitoria prevalenza dell'una o dell'altra corrente a seconda dell'epoca, del luogo e dell'iniziatore principale. Ed è evidente ancora che queste diverse tinte di un'unica acqua si potranno manifestare ancora nei tempi a venire. Ciò è nella logica delle cose e nella logica dei bisogni, condizionati dalla cultura, dalle informazioni, dagli usi, dal modo di vivere, dei membri dell'ordine attraverso le varie epoche. E veniamo a Martinez. Io parlo di Martinez ben sapendo che alcuni studiosi da anni mi obiettano qui in Italia che il martinismo è nato, fu creato ed è stato inventato da Papius e che al massimo ci si dovrebbe ispirare agli insegnamenti del Lucro de Saint-Martin. Io so di che martinismo si tratta, l'ho detto sinora. Quel martinismo non è il mio martinismo, a costo di essere noioso, a costo di essere accusato, come lo sono stato, di non rispettare la storia o le storie. Il martinismo che vide Papius tra i suoi principali animatori, che ha oggi assunto le tinte che ho prima riferito, fu giudicato così da Guénon. Quanto al martinismo moderno, noi possiamo assicurarvi che ha poche cose a vedere con Saint-Martin ed ha assolutamente niente con Martinez e gli eletti Cohen. E Jean Malingueur così afferma. Ma in ogni caso non occorre risalire alle fonti. Si può affrontare lo studio di un ordine senza evocare la lontana figura del suo venerabile e spesso enigmatico fondatore? Si può osare parlare di martinismo senza vedere davanti a sé l'immagine così strana e così discussa di Martinez de Pesqually? E veniamo quindi a Martinez. Jacques Delivre en Joaquin de la Tour de la Casa Martinez de Pesqually nacque a Grenovi nel 1727 e morì a San Domingo il 20 settembre 1774. I suoi discepoli furono tutti reclutati nella massoneria e quei pochi che provenivano dal mondo profano venivano rapidamente da lui iniziati ai primi tre gradi azzurri grazie ai poteri da lui posseduti regolarmente in tal campo. Nel 1758 fonda l'Ordine dei Cavalieri Massoni eletti Coen e nel 1764 la loggia madre La Perfezione L'Hue Cossesse che nel 1765 viene riconosciuta regolare dalla Gran Loggia di Francia. L'Ordine degli eletti Coen era un ordine sacerdotale con una sua dottrina consegnata dal Maestro nel Trattato della reintegrazione degli esseri nelle loro primitive virtù e potestà. Trattato, manoscritto, che veniva dato ai soli iniziati con una sua liturgia e i membri che ne facevano parte dovevano sottostare a delle regole particolari per meglio compiere i riti stabiliti. L'Ordine forniva ai propri membri quegli elementi magico-teurgici indispensabili per l'operatività. Qual era la dottrina di Martínez? Qui ci limiteremo a dire che secondo Martínez gli esseri emanati dal primo principio furono precipitati a causa della prevaricazione di Adamo. Essi, necessariamente, si dovranno riconciliare con Dio ma la cosa appare assai problematica perché questo nostro mondo è fondamentalmente negativo. Infatti, anche prima di Adamo gli angeli si erano ribellati alla legge ed erano precipitati nella materia che circoscrisse la loro azione nefanda. Tra l'uomo e il suo maestro celeste esiste tutta una gerarchia di esseri non materiali e tra questi ve ne sono ovviamente di malvagi e prevaricatori. Per la sua salvezza l'uomo di desiderio non deve soltanto divenire il signore di se stesso ed in particolare della sua natura inferiore dirigendo e focalizzando il suo essere verso il divino ma deve anche combattere contro i tentativi delle entità decadute che cercano di asservirlo e legarlo agli impulsi inferiori e al mondo delle senso percezioni. I mezzi per la reintegrazione possono articolarsi in due azioni. Primo, lo studio dei misteri cosmici e la comprensione dello scopo da raggiungere. Secondo, i riti di riconciliazione appoggiati sui riti di purificazione e di servizio o di lotta contro la negatività. Grosso modo potremmo affermare che tutte le operazioni COEN possono essere raggruppate in tre gruppi. Operazioni di purificazione dell'aura terrestre Operazioni di guarigione Operazioni di riconciliazione e di reintegrazione. Poiché le tecniche e le operazioni dei COEN hanno sempre destato un interesse particolare ed una viva curiosità, diremo qualche parola in più. Innanzitutto, vi è una tecnica iniziatoria, strutturata secondo le tecniche magiche classiche, ed una tecnica culturale idonea a realizzare le finalità espresse nella dottrina segreta contenuta nel trattato della reintegrazione. Il tutto costituisce la cosiddetta via operativa. I diversi culti propri dell'ordine sono culto di espiazione, culto di grazia particolare generale, culto operatorio contro i demoni, culto di prevaricazione e di conservazione, culto contro la guerra, culto di opposizione a nemici della legge divina, culto per ottenere la discesa dello spirito divino, culto di affermazione della fede e di perseverazione nella virtù spirituale divina, culto per la fissazione dello spirito conciliatore divino in sé, culto di dedicazione annuale di tutte le operazioni al creatore. La tecnica culturale è concepita secondo i canoni secolari della teorgia. Nel corso del culto, il koen prende contatto con forze sempre più sottili, elevate, che li si manifestano mediante i passi. Egli ascende quindi verso il pleroma iniziale, elevandosi di regione spirituale in regione spirituale. tale ascenso che dura tutta la vita è guidato e confermato da manifestazioni dell'aldilà, i cosiddetti passi che sono dei glifi luminosi, i cui segni sono contenuti in un repertorio generale che ne numera circa 2400, classificati secondo rango e classe, delle entità di cui sono le manifestazioni nella nostra dimensione. In tal modo, il koen, mediante l'interpretazione del segno corrispondente al glifo luminoso visto durante le sue operazioni, è in grado di conoscere il livello raggiunto nel suo ascenso e di controllare il progresso sul duro cammino della propria reintegrazione. Il problema non è stato risolto e del resto Martinez non ha mai detto niente salvo che egli era in possesso di una trasmissione. Guénon, insieme ad altri, opina che egli aveva la missione di adattare nell'ambiente in cui era stato invitato un certo insegnamento tradizionale ed una certa forma di operatività. Naturalmente se questa missione non fu coronata da quel successo che ci si sarebbe potuti attendere ciò fu dovuto come scrive Guénon da un lato al fatto che una serie di circostanze sfavorevoli ostacolarono quanto Martinez si proponeva. Da un altro lato è possibile che egli stesso sia stato inferiore al compito malgrado i poteri di ordine psichico che egli manifestamente possedeva e che avrebbero dovuto facilitarlo sia che li possedesse in maniera naturale spontanea come accade qualche volta sia come appare più verosimile che egli fosse stato preparato particolarmente. Quanto alla missione che egli doveva esplicare Guénon esplicito affermando su questo punto almeno non vi dovrebbe essere alcun equivoco se Martinez riceve una missione questa fu di fondare un rito o un regime massonico di alti gradi nel quale introdurre rivestendoli in forma appropriata gli insegnamenti che egli aveva ricevuto presso un'altra sorgente iniziatica. Quando si esamina l'attività iniziatica di Martinez non bisogna mai perdere di vista il suo doppio allaccio alla massoneria e ad un'altra organizzazione ancora più misteriosa. La prima gli era indispensabile per poter assolvere il compito che gli era stato assegnato dalla seconda. Questo fatto scaturisce anche dall'osservazione che Martinez non ha mai avuto pretesa di porsi come capo supremo di una gerarchia iniziatica neppure nella sua veste dei sovrano di Cohen. Noi dobbiamo necessariamente lasciare il problema insoluto ciascun ricercatore serio potrà darsi una risposta attraverso la sua esperienza. Affermiamo comunque che primo la sua era una dottrina tradizionale secondo la dottrina della reintegrazione è di natura agnostica ermetica cabbalista terzo il cristianesimo di Martinez è un adattamento all'ambiente in cui era costretto a muoversi. Egli ha indicato una via ed una tecnica perché il profano o minore in privazione possa uscire dalle tenebre divenire per gradi successivi un minore riconciliato prima un minore rigenerato poi ed infine un reintegrato nel regno celeste nello stato edenico. Più specificatamente le sue teorie sono giudeognostiche la loro forma è cabalistica la pratica è magico-teurgica. dobbiamo aggiungere che il suo cristianesimo è dovuto all'adattamento all'epoca e all'ambiente in cui si svolgeva la sua missione la massoneria allora era cristiana e cattolica soprattutto in Francia ed il suo Cristo è un principio che è totalmente differente da quello storico che non interessa e non sposta alcun problema iniziatico sia che esso sia storicamente esistito sia che non sia esistito così come è descritto dalle chiese ai propri fedeli e dobbiamo ancora aggiungere che le tradizioni ermetiche pitagoriche astrologiche eccetera si ritrovano nella sua opera a pie pari secondo la logica delle cose il mellinger così conclude lo studio da noi citato qualunque sia la parentela del suo insegnamento e delle sue pratiche con certi scritti cabalistici i quali mutuano dalla scuola di Alessandria che a sua volta attinge a sorgenti greche anteriori al cristianesimo tutto ciò ci permette di pensare che la vera tradizione del martinismo è un fiore complesso il cui stelo è rappresentato dalla cabala ma le cui radici invisibili si prolungano profondamente nel vecchio terreno teurgico egiziano e greco questa è l'essenza reale del martinismo che occorre ricercare e ricreare